Veniamo al mondo così, tutti, indistintamente. La scena può impressionare, potete scegliere di non continuare. Mi sono sentito libero, col muro spallato e ancora più libero, quando hanno assassinato il dittatore con la moglie, liberissimo protestando davanti a car armati, sicuro di mille ragioni di tanta libertà, di libero, qui c'è soltanto il tempo, nel caosso dei trame con più morte che in guerra, libero, così come tanti nel passato, steso sotto il sole, ercecante e caldo della Sicilia, Bagnu, anche a dicembre. Libero, grassi, costrade che portano il mio nome, se però, come spesso accade, vince il nemico, è possibile, mi buttino giù, con tutte quelle lapide e le targhe. E stupefatti, chissà o per niente, lungo il cammino, vedrò spuntare tante vie, piazze, Rina e Ciancimino. Ora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché se no, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta, questi stanno rubandomi la vita, in cambio di due milioni e mezzo al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro, il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano due milioni e mezzo al mese, bene che vada. Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione. Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? È il vero schiavo, e lo schiavo difende il padrone, non è che lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando otto decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare otto decimi a tre quarti di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorderci che siete tutti morti. No, è un sistema politico che sa rubare otto decimi a tre quarti di mondo. No, è un sistema politico che sa rubare otto decimi a tre quarti di mondo. Non è un sistema politico che sa rubare otto decimi a tre quarti di mondo. Grazie.